Fraudolenta alterazione di parti del proprio corpo. Questa è l'accusa mossa dagli agenti della squadra mobile di Agrigento a 10 cittadini extracomunitari sbarcati a Lampedusa lo scorso 24 agosto. I 10, tra cui 6 minorenni, per sfuggire all'identificazione si sono cosparsi di colla ai polpastrelli delle dita. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero.